La grazia del Signore Per questo, dice il Signore per bocca del profeta, ti conservo ancora pietà, per questo ti rimango ancora fedele, perché il suo amore è eterno. E ce lo ricordo oggi, fratelli, per mezzo del profeta Ezechiele, dove il Signore per bocca del profeta descrive la storia di Israele come la storia di una ragazza. Di cui lo sposo si è innamorato, una bambina innanzitutto che è stata abbandonata, ma il Signore è passato accanto a lei e l'ha raccolta. Israele era un gruppo di persone erranti, il Signore ne fece un popolo, gli rivelò la sua misericordia, la rechì di doni, di santità, mandò i profeti, dette la parola, le leggi. Ma dice il Signore, più io ti abbellivo con i miei doni, più tu ti allontanavi da me. E allora il Signore non minaccia la sua sposa, ma le promette, concludi così il brano che il Signore ci dona per mezzo il profeta Ezechiele. Ma io mi ricorderò dell'alleanza conclusa con te nel tempo della tua giovinezza e stabilirò con te un'alleanza eterna, perché te ne ricordi e ti vergogni, e nella tua confusione tu non apra più bocca quando ti avrò perdonato quello che hai fatto. Il Signore dà gloria al suo nome, perdonando, usando misericordia. Signore Gesù, noi ti chiediamo, oggi manifesta al tuo popolo la grandezza di questo amore, di questa grande misericordia, della tua eterna fedeltà. Manifesta a ciascuno di noi la ricchezza di questo amore. Dona a quanti sono stati toccati dal peccato, lacerati dalla confusione, feriti dagli offesi e dagli insuccessi. Dona a tutti la grazia di tornare a te, con inni di lode, come ci invita a fare il profeta Esaia. Ecco, Dio è la mia salvezza. Io avrò fiducia, non avrò timore, perché mia forza e mio canto è il Signore. Egli è stato la mia salvezza. Attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza. Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome. Proclamate fra i popoli le sue opere. Fate ricordare che il suo nome è sublime. Cantate in il Signore, perché ha fatto cose eccerse, le conosca tutta la terra. Canta ed esulta, tu che abiti in Sion, perché grande in mezzo a te è il Santo di Israele. Vedete, fratelli, il Signore continuamente, anche la Chiesa di oggi, chiede la grazia di fissare lo sguardo su di Lui, fissare in Lui il proprio cuore e il proprio amore. Hai sbagliato nella vita, ma guarda, Gesù, come Lui se ci ricorda nei Vangeli di Giovanni, quando, dici, guarderanno a colui che hanno trafitto, come Mosè innalzò il serpente del deserto. Così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo. Non dobbiamo distogliere gli occhi del nostro peccato. Dobbiamo guardare solo per rendere grazie a Dio, solo per tuffarci nelle misericordie di Dio e proclamare le sue lodi per l'amore che ci dona. Ma la salvezza viene dall'aprire mente, cuore, occhi, vita al Signore Gesù, da lasciarsi amare da Lui, sposo e innamorato della Sua Chiesa. E nel Vangelo di oggi il Signore dona a tutti noi un grande insegnamento, fratelli, un insegnamento già presente nella scrittura e nei profeti, ma Gesù lo fa su e lo porta alla perfezione. Mosè aveva permesso ai coloro che volevano di poter divorziare. Quando chiedono a Gesù, ma è lecito a un uomo rimandare la propria moglie, Gesù risponde che Mosè permise il divorzio per la durezza del loro cuore, perché non erano ancora in grado di comprendere quell'amore. L'amore di Dio è un amore fedele. Gesù ci ha amato fino alla morte e alla morte di cruce e ci rimane fedele in eterno. Ora Dio, creando l'uomo, l'ha fatto simile a sé, ha trasmesso a noi la sua natura, come ci ricorda l'Apostolo Pietro nella sua seconda lettera, dove dice Dio, con questi beni indicibili, ci ha fatto partecipi della sua natura. Tu hai dentro di te il Divino. Il peccato non è una semplice offesa a Dio, e il rifiuto della presenza di Dio, ma anche il rifiuto della nostra dignità divina, della nostra dignità dei figli di Dio. Allora le leggi che Dio ci dona, fratelli, sono indicazioni per vivere in santità, per vivere nella verità. Ecco allora, quando viene chiesto a Gesù se era lecito o meno divorziare, Gesù fa riferimento non a una legge, ma a una natura. Dice infatti, non avete letto che il creatore da principio gli fece maschio e femmina, e disse, per questo l'uomo lascerà il padre e madre, e si unirà a sua moglie, e i due diventeranno una sola carne? E nella natura questo? Ora, attenzione bene, fratelli, per comprendere questi discorsi, noi dobbiamo dipannare certi dubbi che abbiamo nel cuore. Il matrimonio, come Dio l'ha concepito, non è un contratto, vale a dire, due si mettono d'accordo, trattano le condizioni, decidono di firmare un contratto, se poi questo contratto non risulta buono, lo si può anche distruggere. Questo non è un matrimonio. Il matrimonio viene concepito da Dio come un patto d'amore, un patto d'amore e di vita. L'abbiamo ricordato tante volte, il patto è la fusione delle due vite. Ora, a cosa deve mirare il matrimonio? Alla comunione di amore. Il marito è fare dono della sua vita alla sposa. Non si prende la sposa in casa perché li cucina e gli stia i pantaloni, ma la sposa è quella a cui il marito dona la sua vita. Lui vive per lei e altrettanto la sposa vive per lui. E i due devono realizzare una comunione d'amore. Ora, la comunione non è un fatto fisico. Oggi, purtroppo, c'è un grosso inganno nella nostra società. quello di equiparare l'amore alla sensualità. No, l'amore non è sensualità. L'amore è dono, l'amore è onore, è nobiltà, è verità, è comunione, appartenenza, accoglienza, fusioni di vita. Quello è l'amore. L'amore non è sensualità. La sensualità è contro l'amore e la distruzione dell'amore. Vedete, Adam e Eva, prima del peccato, erano nudi, dice la scrittura, e non ne provavano vergogna. Ma dopo il peccato, entrò in loro l'amalizia. E l'amalizia portò, che cosa? Alla rivalità, per cui Dio dice alla donna, verso tuo marito, sarà il tuo istinto, ma lui dominerà su di te. Questa non è creazione, questa è corruzione, per cui il matrimonio richiede santità di vita, richiede guarigione dei propri affetti. Tanti si sposano per scappare di casa, tanti si sposano perché affascinati dalla ricchezza dell'altro, dalla bellezza, dalla sensualità. Ma questo non è matrimonio. Matrimonio è ben altro. Per questo la Chiesa chiede che ci si prepari al matrimonio, ma facendo un cammino di crescita, senza il quale è impossibile fondere le vite. Ci sono matrimoni che non sono tali, sono stati celebrati, ma non è avvenuto il patto, non è avvenuta la fusione, non è avvenuta la comunione di cuore. Tanti uomini non hanno mai visto la propria sposa negli occhi, perché guardarsi negli occhi con amore vuol dire entrare nell'anima dell'altro, fondere la propria anima. Se si cerca la sensualità e si fa dominare la sensualità, non esiste matrimonio, esiste corruzione. C'è questo inganno, anzi e fratelli, e tutto mira alla sensualità. No, bisogna mirare alla comunione, a purificare il cuore. Questo è quando il Signore dice, per questo il Signore paragona la Chiesa alla sposa, la sua unione alla Chiesa, come il matrimonio dello sposo e della sposa che fondono insieme le loro vite. Per questo l'uomo lascerà quindi suo padre e sua madre, vale a dire, se un frutto rimane legato alla pianta, non si può riprodurre. Così quando ci si sposa, ci si stacca dalla famiglia d'origine per creare una nuova entità, ma una nuova comunione d'amore. Signore, dà luce oggi a tutte le famiglie, illumina tutte le chiese che sappiano riconoscere questo amore grande che ti ha portato ad amare la tua sposa fino a morire per essa. E tu, ecco, lo sposo dia la sua vita alla sposa e la sposa dia la sua vita alla sposa e che i figli siano frutti della comunione santa, gioiosa d'amore. Signore, sull'esempio della tua Santissima Madre dona ad ogni famiglia la grazia di vivere nella luce della fede, nella ricchezza dello Spirito Santo e se ci sono ferite nelle nostre famiglie guarisci lo Signore per la tua grande misericordia e manifesti quella fedeltà eterna che tu hai manifestato al popolo di Israele. A te sia gloria, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. E tu Vergine Santissima Regina della famiglia rinnova tutte le nostre famiglie. Molte sono ferite, molte sono lacerate, molte sono ingannate, rinnovale con quell'amore che ti ha portato a generare il figlio tuo, Gesù Cristo e a donarlo a noi per la nostra salvezza. A Gesù salgo con il lode gloria, onore e benedizione per tutti i secoli dei secoli. Amen. E il Signore vi avvolga tutti i fratelli in questo amore e vi guarisca da ogni ferita che vi impedisce di sapere amare come Lui ha amato a noi per realizzare gioia, amore perfetto a Lui gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen.